E' positivo all'HIV. Non appena lo scoprì ne rimasi sconvolto. E sembra che l'attore sapesse di essere positivo all'HIV da oltre quattro anni, mettendo così consapevolmente a rischio le innumerevoli partner. Per quale motivo mi hai detto che non eri infetto? Perché non erano c***o tuoi. Come può un Playboy tanto famoso mantenere un segreto di tale portata così a lungo? La mia idea era la migliore e ha funzionato. Un segreto di proporzioni epiche, di quelli che né Hollywood né il mondo dello show business avevano mai visto prima. Chi è quest'uomo? E' un genio? Grazie ad anni di lavoro e di indagini approfondite da parte del National Enquirer sulla vita privata di Charlie Sheen, l'intera storia può essere resa pubblica per la prima volta. Un insabbiamento costruito su menzogne, intimidazioni e il silenzio ottenuto col denaro. Il più grande segreto mai esistito a Hollywood. Dobbiamo parlare di come siamo arrivati qui. 26 ottobre 2010, nell'elegante Hotel Plaza di New York, è mattina presto, quando la sicurezza dell'hotel riceve una chiamata d'emergenza dalla pornoattrice ed escort di lusso Capri Anderson. Capri viene pagata decine di migliaia di dollari in cambio della sua compagnia in qualsiasi giorno dell'anno. Perché un escort dovrebbe chiamare la sicurezza? Secondo Capri, l'uomo che l'ha chiamata per la notte è del tutto fuori controllo, ubriaco, fatto di cocaina e intento a distruggere la camera. Si era chiusa a chiave in bagno, nuda, terrorizzata. E a detta dell'attrice, anche durante la telefonata con la sicurezza dell'hotel, il cliente non si calma. L'accusa di averlo derubato e prende a pugni la porta. Temeva per la sua vita, era chiusa a chiave in bagno. Ma chi è l'uomo in preda alla pazzia? Charlie Sheen. Capri disse alla polizia che Charlie era andato in escandescenza in quella stanza. Quella notte segna il momento in cui la dissoluta vita privata di Charlie Sheen inizia ad eclissare la sua carriera d'attore. Ed ha origine a un vortice distruttivo che renderà la star di Due Uomini e Mezzo il simbolo degli eccessi di Hollywood. La gente mi chiede, come fai a vivere con due ragazze così giovani, belle e perfette? E io rispondo, beh, come potrei non farlo? No, no? Vero? Dopo la notte selvaggia all'hotel, Dylan Howard, redattore del National Enquirer e capo redattore di Radar Online, contatta Sheen. Una fonte mi fece avere il suo numero personale. L'attore televisivo più pagato di tutti decide di richiamarlo. Mi hai chiamato? Eri furioso. Sì, è vero. E ti ho chiesto scusa, infatti. Mi dispiace averti insultato. È l'inizio di un'amicizia fuori dal comune. Era una sorta di gioco per ottenere entrambi qualcosa. Un gioco che dà all'Enquirer un lascia passare per entrare nella rocambolesca vita di Sheen. La rivelazione più scioccante di tutta la storia di Hollywood. E che porterà alla sconvolgente rivelazione che spingerà una delle più grandi star di Hollywood al limite. Charlie Sheen è un mito di Hollywood. Charlie nacque sotto la stella di Hollywood, per così dire. Come sapete, Charlie Sheen è il figlio di Martin Sheen. E il fratello, Emilio Esteves, è un noto attore degli anni Ottanta. Nacque in una famiglia di celebrità. Fu esposto al mondo del cinema sin dall'inizio. In poche parole, Sheen decise di seguire le orme del padre. Quando nel 1986 esordisce in Platoon di Oliver Stone, il giovane attore dimostra di avere davvero talento. Molti suoi film, anche quando interpretava ruoli minori, erano davvero notevoli. Il pubblico lo adorava. Era fatto per stare davanti alla telecamera. Lontano dai riflettori, però, Sheen dimostra di essere inclini al comportamento da cattivo ragazzo che interpreta nella memorabile apparizione in Una pazza giornata di vacanza. In Una pazza giornata di vacanza, nella scena in cui è seduto alla centrale di polizia, l'espressione sprezzante e di sfida sul suo viso anticipa in qualche modo quello che sarebbe diventato Sheen da adulto. Il primo assaggio di ribellione si ha nel 1990, quando il breve fidanzamento con l'attrice Kelly Preston termina quando Sheen le spara a un braccio. Dichiarò che stava pulendo la sua pistola e che fu un incidente. La ferita non è grave e non segue alcuna azione legale, ma poco dopo Charlie inizia quello che sarà solo il primo dei tanti percorsi di riabilitazione. La riabilitazione divenne di fatto una triste abitudine nella vita di Charlie Sheen. Un'altra brutta abitudine inizia allo stesso anno, quando Sheen frequenta la prima di tante donne famose nell'industria dei film a luci rosse, Ginger Lynn Allen. Ginger Lynn Allen è probabilmente la più famosa tra le porno star con cui è andato a letto. Diventa presto chiaro che non si tratta di un'eccezione. Nel 1995, Sheen diventa ancora più famoso per la sua testimonianza nel processo della Madame di Hollywood, Heidi Fleiss, quando rivela di aver speso migliaia di dollari in prostitute. Charlie Sheen in quell'occasione dichiarò di aver speso 53.000 dollari con 11 delle sue prostitute. Lo stesso anno, l'attore celebra il suo primo breve matrimonio con la modella Donna Peel. Il matrimonio non durò molto. Dopo appena sei mesi, si lasciarono. Non erano fatti per stare insieme. Dopo la fine della relazione, Sheen si consola frequentando un'altra attrice porno, Brittany Ashland, che poco dopo la rottura lo accusa di aggressione. Pare che l'attrice avesse subito un forte colpo alla testa, tanto che dovette sottoporsi a lunghe cure mediche in seguito all'attacco. Ma Sheen e i suoi avvocati inizialmente rigettano le accuse. Charlie Sheen alla fine è decise di patteggiare per il reato di aggressione minore. La giuria non solo non accetta, ma lo condanna a un anno di detenzione e due di libertà vigilata. Nel 1998 torna in riabilitazione in seguito a un overdose di cocaina, per cui rischia la vita. Una dose simile avrebbe ucciso chiunque, ma non Charlie Sheen. Ma aver rischiato la vita potrebbe averlo fatto tornare in carreggiata? Al momento voglio solo insesto e recitare. Voglio poter fare quello che mi riesce meglio. Adesso dobbiamo andare. Nel 2000, Sheen recita nella sua prima sitcom. Subentrò al posto di Michael J. Fox nella serie Spin City. Fu davvero wow. Non succede spesso che attori di Hollywood accettino ruoli in serie televisive. Fu il primo del grande schermo a fare questa mossa. Charlie era di nuovo tornato sulla cresta dell'onda. Venne persino candidato al Golden Globe per Spin City. Due anni dopo, Charlie sposa l'attrice Denise Richards. Denise disse che in quel periodo Charlie era sobrio e che lei ne era profondamente innamorata. Nel 2003, Sheen replica il successo di Spin City con un'altra serie, Due Uomini e Mezzo. Era inarrestabile. La sua carriera andava di bene in meglio. Qualche mese dopo l'anteprima di Due Uomini e Mezzo, la moglie dà alla luce la loro prima figlia. I fan facevano il tifo per loro. L'illusione che Charlie Sheen abbia finalmente messo la testa a posto svanisce nel 2005. Quel marzo, mentre è in dolce attesa della secondogenita, Denise Richards chiede il divorzio. Fu per tutti quanti un fulmine a ciel sereno. E nella battaglia per l'affidamento dei figli, la Richards dichiara che il cattivo ragazzo di Hollywood è lontano dall'essere guarito. Il matrimonio con Denise scoppiò prima di tutto a causa dell'uso spropositato di farmaci, della mania per il gioco d'azzardo e per l'atteggiamento festaiolo a cui il buon Charlie non riusciva proprio a rinunciare. Dopo il divorzio, Sheen si consola con la modella e personaggio televisivo Brooke Muller. Brooke era un amante della vita mondana. Praticamente era la versione femminile di Charlie Sheen. Era stata in riabilitazione diverse volte. La coppia si sposa nel 2008 e ha due gemelli nel 2009. Ma questa volta nessuno si illude che Trashin e la Muller possa durare. Gli amici intimi dissero che probabilmente fu la cosa peggiore che gli potesse capitare. Charlie continua a fare uso di droghe e il giorno di Natale del 2009 la relazione mondana e sopra le righe con Brooke arriva a un punto di rottura. La loro relazione instabile esplose agli occhi del pubblico nel 2009 quando Brooke chiamò il 911 durante quella che doveva essere una settimana di vacanza natalizia ad Aspen. Mio marito mi ha minacciata con un coltello. Disse alla polizia che Charlie le aveva puntato un coltello alla gola. Temo per la mia vita. Mi ha minacciata. La polizia arriva qualche minuto dopo per risolvere la situazione. Alla fine Charlie Sheen venne arrestato. Gli avvocati dell'attore cercano di minimizzare l'incidente dichiarando che la coppia sta cercando di riconciliarsi ma purtroppo si capisce presto che non è che l'inizio della tempesta. Era una versione di Charlie Sheen completamente sconosciuta. E non appena la trasformazione della star è completa il National Enquirer si trova già in prima fila. Tra poco Charlie contatta il National Enquirer Mi dava ogni informazione in anteprima. E la sua carriera inizia la caduta libera. Sembrava che fosse completamente fuori di testa. Guarda oltre i geroglifici per un secondo. Ti sfido. Gli ascolti di due uomini e mezzo della CBS erano alle stelle. Il nuovo contratto rende Sheen l'attore televisivo più pagato al mondo. Guadagnava un milione e ottocentomila dollari a episodio. Una somma davvero astronomica mai vista prima per la televisione di quei tempi. Finché nell'ottobre del 2010 uno strano incidente con protagonisti la droga. Un'attrice porno e l'Hotel Plaza spedisce Charlie nel baratro. Il 25 ottobre mentre si trova a New York Sheen esce a cena con l'ex moglie Denise Richards i loro figli e un bizzarro entourage composto da escort e dal ricce porno Capri Anderson. Solo uno come Charlie Sheen può organizzare una cena lussuosa in un rinomato ristorante stellato insieme all'ex moglie i figli un harem di donne e una escort prenotata per la serata. Una serata che termina con l'attrice porno disperata al telefono con la sicurezza dell'hotel. Chiamò terrorizzata dicendo che Charlie aveva minacciato di ucciderla. L'hotel chiama immediatamente la polizia di New York. Charlie venne portato in ospedale per fare una perizia psichiatrica. A pochi giorni dall'incidente non solo la sua terza moglie Brooke Mueller chiede il divorzio ma la star imbastisce anche una strana amicizia con l'uomo che rivelerà al mondo intero il suo segreto più oscuro. L'allora redattore del sito di intrattenimento Radar Online collegato al National Enquirer Dylan Howard contatta Sheen in seguito alla serata all'hotel Plaza. Una fonte mi aveva procurato il suo numero di cellulare. Finalmente avevo l'opportunità di contattarlo. Inaspettatamente Sheen risponde. Era quasi compiaciuto quando scoprì che avevo trovato il suo numero di cellulare. Sheen inizia una serie di interviste informali faccia a faccia con Dylan e il suo team. Com'è il tuo rapporto con i media ora? Mi adorano. Anche se... Senza alcun dubbio. Mi sento amato. Mi avevo offerto un posto in prima fila per quello che sarebbe diventato il più grande show di tutta Hollywood. Uno show che diventa sempre più spettacolare. Nel gennaio del 2010 pochi mesi dopo la notte all'hotel Plaza un'ambulanza trasporta d'urgenza Charlie Sheen all'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. A detta dei suoi agenti fu per dolori addominali ma in realtà si trattava di un'overdose. In ogni caso due uomini e mezzo viene momentaneamente interrotto e anche se la pausa serve per favorire la riabilitazione Sheen vede la sospensione come una punizione. Mi mandò un messaggio con scritto la gente sembra non capire uno non può divertirsi e allo stesso tempo lavorare? Poco dopo essere dimesso dall'ospedale Sheen sfoga la sua frustrazione con una lunga invettiva in cui ridicolizza il creatore e produttore esecutivo di due uomini e mezzo Chuck Lorry Disse che Lorry non meritava di averlo nella serie Charlie non sentiva di essere trattato come pensava di meritare forse e durante molte delle sue apparizioni pubbliche Sheen continua a deridere e sminuire il produttore televisivo Era davvero senza filtri diceva tutto quello che pensava e non si preoccupava minimamente delle conseguenze delle sue parole Questa faida pubblica con Chuck Lorry non è che l'inizio di una serie di stravaganti comportamenti di Sheen Era iniziata l'era del vincere Sto vincendo Vinto! Vincere! Vinceremo tutti insieme Basta decidere di vincere per vincere Era del tutto imprevedibile Un giorno diceva di avere sangue felino un altro di essere uno stregone era un tracollo pubblico di di proporzioni epiche Eppure nonostante il tracollo Charlie sembra trascorrere i migliori giorni della propria vita Si circondò di donne soprannominandole le idee E due di loro la modella Natalie Kenley e l'attrice porno Brie Olson si trasferiscono nella lussuosa villa dell'attore Definiva queste relazioni come un'ultra poligamia Ogni giorno c'era una nuova rivelazione Alla fine di febbraio la CBS e la Warner Brothers decidono di interrompere la produzione di due uomini e mezzo per il resto della stagione Fu un momento difficile per tutto il cast I pettegolezzi a Hollywood correvano a una velocità incredibile Mi venne riferito da diverse fonti che Charlie Sheen stava per essere licenziato Sperando in qualche commento Howard contatta l'attore mentre si trova in vacanza alle Bahamas con le sue idee Gli scrissi per dirgli che rischiava di essere licenziato e che giravano voci attendibili che fosse tornato a fare uso di droga A dirato Sheen smentisce le accuse Mi rispose prendi un aereo vieni qui e fammi un test dell'urina Howard coglie l'occasione sperando di smascherare Charlie Sheen Lo sfidai a tornare subito qui dalle Bahamas fare un test antidroga e dimostrare a tutti di essere pulito Sheen contro ogni previsione accetta Voglio smentire questi ciarlatani rimettere questi pazzi al loro posto Facciamo il test e chiudiamo questa storia A fine febbraio del 2011 Howard si presenta nella lussuosa villa di Charlie Sheen con un tecnico di laboratorio certificato della California Lo testammo per ogni tipo di droga dal crack alla cocaina cercammo tracce di metanfetamina marijuana e anche di medicinali vari Non vorrei metterti ansia da prestazione No, fai quella roba Chiudi la porta Scusa, devo chiudere I risultati del test non lasciano margine a dubbi Questa è la prima prova schiacciante che Charlie risulta negativo all'uso di droga E Sheen, trionfante si vanta finalmente della sua piccola rivincita L'unico modo per passare il test è non aver fatto uso di droga e non lo dico io ma la scienza In quel momento la vedi davvero come la grande vittoria di Charlie Sheen La casa cinematografica e la rete televisiva non sembrano colpiti Il 7 marzo una settimana dopo il test antidroga la CBS e la Warner Brothers annunciano l'annullamento del contratto Charlie Sheen è licenziato A detta dell'amico Robert Cooper la notizia coglie Charlie di sorpresa Lo ferì molto ma aveva creato il più grande show mai visto e all'improvviso era andato tutto in frantumi Sheen e i suoi avvocati reagiscono denunciando la Warner Brothers per ingiusto licenziamento la casa di produzione per non incorrere in cattiva pubblicità firma un accordo privato con Sheen offrendogli una somma secondo le fonti di circa 100 milioni di dollari Sembra incredibile come un uomo si lanci con leggerezza in un pesante scandalo senza precedenti nella storia di Hollywood e riesca a ottenere una somma di 100 milioni di dollari dal suo ex datore di lavoro Solo lui poteva uscirne così Nel frattempo anche se il crollo e il licenziamento di Sheen riempiono le prime pagine l'attore continua ad avvicinarsi sempre più al giornalista del National Enquirer e di Radar Online Dylan Howard È vero che ero un giornalista ma per quanto riguarda Charlie Sheen ero anche parte della sua squadra Mi ero guadagnato da Sheen stesso il privilegio di poter mostrare al mondo quello che succedeva veramente dietro le quinte Nel maggio 2011 quando il divorzio con la Mueller è ormai definitivo e il giudice gli nega di vedere i gemelli di due anni Sheen si rivolge a Howard per chiedere consiglio Charlie mi chiese che cosa dovesse fare come se fossi il suo avvocato Howard non sarà un avvocato ma Sheen conosce bene l'entità della sua influenza sull'opinione pubblica e quando l'attore decide di controbattere accusando l'ex moglie di abusare di droga lo fa rilasciando un'intervista esclusiva a Howard per il National Enquirer vado c'è una persona di cui non farò il nome che l'ha vista con i propri occhi qui fare uso di cocaina a mia insaputa io ero diventato lo strumento attraverso il quale poteva rendere pubblico il suo oscuro bizzarro e spesso incomprensibile messaggio alla società anche se Howard verifica le dichiarazioni di Sheen prima di renderle pubbliche è l'attore a pilotare il messaggio quello che dico è guarda oltre i geroglifici per un secondo ti sfido ehi Charlie Charlie da questa parte con una star della portata di Charlie Sheen l'accesso diretto quasi illimitato alla sua vita privata comporta anche notevoli rischi al momento gli facevo comodo ma se avessi reso pubblica una notizia che lui non voleva venisse divulgata? Nell'autunno del 2013 le continue ubriacature di Charlie Sheen le imbarazzanti dichiarazioni pubbliche e gli incontri con le porno star sono ormai una rubrica fissa del National Enquirer Charlie Sheen era sempre in prima pagina sul nostro giornale e io ero stato catapultato nel bel mezzo di quella tempesta la strana vita dell'attore è ormai un fenomeno di portata mondiale perennemente sotto i riflettori vincere è difficile non farsi stupire o impressionare ma sono anche molto molto orgoglioso che ci sia che ci sia tutta questa questa varia percezione della faccenda Machine è di nuovo in pista a giudicare da quanto dice l'amico Hunt Ebbler con una nuova serie dal titolo Anger Management voleva lavorare ovviamente voleva rimettersi in gioco e dimostrare quanto valesse ma anche se lo show è un successo la vita personale dell'attore rimane instabile Charlie non voleva crescere si cacciava in un guaio dopo l'altro quel novembre Charlie pubblica per l'ex moglie Brooke Mueller la foto di una bomba a mano con il messaggio buon compleanno Brooke perché non soffi questa candelina avevo l'impressione che non avesse più il controllo della realtà ma la vera bomba deve ancora scoppiare è sempre quell'autunno che il National Enquirer sente per la prima volta il nuovo sconvolgente pettegolezzo che circola a Hollywood correva voce che una delle grandi celebrità di Hollywood avesse l'HIV e io speravo non fosse Charlie la fonte era uno degli spacciatori di Charlie un tizio che gli procurava le donne da portare a casa per le feste vide con i suoi stessi occhi dei medicinali per trattare l'HIV sinceramente non appena lo scoprì ne rimasi sconvolto secondo queste voci Ashin viene diagnosticato l'HIV nel 2011 nello stesso periodo in cui inizia a comportarsi in maniera strana basta pensare a quando scoprì di essere positivo all'HIV e a quando ebbe il tracollo il momento coincide il crollo che mostrava pubblicamente era il sintomo del tumulto che viveva interiormente per la triste scoperta questo significa che le voci sono fondate o sono solo mere speculazioni basate sulla serie di cattivi comportamenti di Sheen tutti a Hollywood erano al corrente dell'estravaganza di Charlie e della sua passione per le pornostare e le prostitute ma una cosa è senz'altro certa se Sheen fosse positivo all'HIV il selvaggio edonista di Hollywood avrebbe dovuto rivedere il proprio comportamento secondo le dichiarazioni dei suoi amici più intimi e in base alle testimonianze delle persone che gli giravano intorno sembrava che oramai fosse completamente senza controllo era una continua sfilata di prostitute una pornostar dietro l'altra feste incredibili con fiumi di alcol cocaina e riti orgiastici ma quanto sarebbe durata? mentre Sheen folleggia il National Enquirer indaga sulle voci che lo accusano avevamo costituito una squadra di informatori che si muoveva ben oltre Hollywood i nostri giornalisti viaggiavano da costa a costa quella che è solo una voce circoscritta a Hollywood diventa una notizia mondiale quando un blog misterioso la pubblica nell'aprile del 2014 un modesto blog per niente famoso di nome Hollywood Street King pubblicò una storia su Charlie e l'HIV l'articolo su una pagina poco visitata non fa che una breve apparizione inspiegabilmente l'articolo scompare un attimo dopo essere stato pubblicato ne fummo sorpresi perché stavamo lavorando noi su quella storia fu davvero strano quell'articolo sparì dalla faccia della terra significa che le voci non sono veritiere o c'è un'altra spiegazione per la rimozione immediata dell'articolo il primo indizio a indicare che Sheen nasconda qualcosa arriva quando la squadra dell'Enquirer scava a fondo sull'incidente avvenuto il giorno di Natale il giorno di Natale del 2009 ad Aspen in Colorado Charlie era in vacanza e la polizia ricevette una chiamata per un incidente domestico che coinvolgeva l'attore e la moglie Brooke l'incidente finisce su tutti i giornali e porta all'arresto di Charlie per aver minacciato Brooke con un coltello che tipo di coltello è? uno di quei coltelli a serramanico un coltello come quelli a molla? l'attore ammise che il litigio fu causato dal suo tasso alcolico in seguito a Dylan Howard la sua confessione va oltre mi descrisse personalmente il sottile piacere che provò nel puntare quel coltello alla gola della moglie anche se Sheen dichiara che l'incidente non fu che un errore commesso da ubriaco la nuova indagine dell'Enquirer scopre la vera causa del violento litigio sembra abbia a che fare con una discussione riguardo a un amante di Charlie un amante uomo secondo i messaggi ottenuti dal National Enquirer Brooke aveva le prove di questi incontri non era la prima volta che Charlie andava a letto con un uomo e lei lo aveva filmato di nascosto perché la donna aveva ripreso Charlie con un altro uomo? la risposta è molto semplice ricatto Charlie non voleva che il mondo sapesse che era coinvolto in pratiche omosessuali in attesa di chiedere il divorzio Brooke minaccia di rendere pubblico il video di Charlie con l'uomo se lui non avesse annullato l'accordo prematrimoniale voleva ottenere molti più soldi 55.000 dollari mensili di mantenimento per l'esattezza ma quando la donna affronta Sheen per ricattarlo l'attore perde la testa e lei si vede costretta a chiamare la polizia il movente meschino del litigio non venne mai reso pubblico altri messaggi ottenuti dal National Enquirer rivelano che Brooke è consapevole del fatto che Charlie sia positivo all'HIV e che ha paura che l'abbia infettata trasmettendole il virus fu contattata da una fonte che sosteneva di avere alcuni messaggi del suo ex assistente personale in cui l'uomo e Brooke Mueller parlavano della faccenda e della preoccupazione della donna di aver contratto l'HIV e l'articolo comparso su quel piccolo blog è misteriosamente scomparso? Emergerà ben presto che c'è proprio Charlie dietro questa faccenda Trovamo delle prove documenti che certificavano l'invio di denaro a favore del moderatore del sito web che avrebbe ricevuto 100.000 dollari per cancellare quelle informazioni da internet Ma come presto scoprirà il National Enquirer quei 100.000 dollari non sono che una minuscola frazione del denaro che Sheen avrebbe speso per assicurarsi di mantenere segreta la malattia Tra poco Sheen perde la pazienza Quando ho risposto al telefono ha iniziato a urlare senza sosta Che cosa c***o pensi di fare? Sei un f***o idiota Ma fino a che punto si spingerebbe perché rimanga un segreto? Una fonte mi riferì che Charlie aveva dei sicari al libro paga Nell'estate del 2014 nonostante il grande fallimento di Sheen nella serie Due Uomini e Mezzo l'attore più permaloso ed edonista di Hollywood è in splendida forma La nuova serie Anger Management è alla seconda stagione e nonostante le distanze prese dallo show l'attore continua a trarre guadagno anche da Due Uomini e Mezzo La serie venne diffusa in tutti gli Stati Uniti era trasmessa in 50 diverse nazioni in tutto il mondo Charlie era un uomo con un ricco conto in banca e che ci metteva poco a svuotarlo Charlie continuava a volersi divertire continuava a intrattenersi con le porno star lo vedevano spesso a partarsi con le prostitute arriva al fidanzamento con l'ennesima attrice porno un'ex modella penthouse di nome Brett Rossi proprio quando credi che sia giunto alla fine di una serie di follie di citazioni e comportamenti osceni lui combina qualcosa di nuovo inaspettato e mai visto prima ci regala articoli da prima pagina se con i suoi comportamenti riempie le prime pagine dei giornali c'è ancora un enorme segreto da svelare per mesi hanno circolato alcune voci molto pesanti a proposito di Shin era positivo all'HIV e secondo le prove raccolte dal National Enquirer sono passati anni e sono stati spesi i fior di quattrini per insabbiare la notizia c'era un'altra storia in realtà un segreto di proporzioni epiche di quelli che né Hollywood né il mondo dello show business avevano mai visto prima Charlie non è certo la prima grande star di Hollywood con l'HIV ma nessuno era mai riuscito a nasconderlo per così tanto tempo e nessuno aveva mai speso 100.000 dollari per far sparire dalla circolazione un articolo che parlava del segreto in questione era solo una delle tante mazzette che Charlie aveva pagato per il silenzio poi nell'agosto del 2014 un ex spacciatore di droga di Shin contatta l'Enquirer con altre informazioni incredibili non solo ci confermò che Charlie Shin era siero positivo ma ci disse anche di averlo visto con i propri occhi avere rapporti sessuali con innumerevoli partner senza l'utilizzo di protezioni alcuni di loro potrebbero essere stati esposti al virus dell'HIV sempre secondo la fonte una di queste è l'ex fidanzata dello spacciatore stesso che riceve regolarmente un assegno da Charlie in cambio del suo silenzio l'ha sistemata in una casa a Calabasas e le ha dato del denaro se l'ex spacciatore di droga fosse stata l'unica fonte probabilmente l'Enquirer avrebbe lasciato perdere ma non è così ricevemmo la foto di un assegno da 20.000 dollari che Charlie avrebbe mandato a una prostituta transessuale con cui era andato a letto ed è solo una delle innumerevoli amanti che Charlie si preoccupa di pagare regolarmente Charlie Sheen stava spendendo una fortuna in assegni mazzette se proprio vogliamo che dava agli ex amanti c'era molto di più di quello che sapevamo su di lui riguardo le prostitute e diciamo la vita sregolata che conduceva la domanda è che cosa avrebbe fatto Charlie Sheen una volta scoperto delle indagini sulla sua condizione di siero positivo e i suoi tentativi di mantenerla segreta la risposta arriva nel settembre del 2014 era un venerdì pomeriggio il mio assistente venne in ufficio e mi disse credo che Charlie Sheen voglia parlarti e non si può certo affermare che si tratti di una chiamata di cortesia vada a abbracciare i tuoi c***o di genitori capito? non mi interessa se sono vivi o morti riesumali e vada a abbracciare i loro cadaveri sei un figlio di c***o ma come c***o ti permetti? capito? ascolta è l'ultima c***o cosa che ti dirò un altro articolo mio caro e giuro che ti risveglierai guardando la mia c***o di faccia sei un c***o c***o brutto c***o ti sfido la storia prende una piega inaspettata ma se Sheen pensa di poter rovinare il giornalista che ha accolto in casa propria si sbaglia le indagini dell'Enquirer sulla malattia di Sheen sono in corso di svolgimento raccoglie il mondo sia con tutte le prove documenti legali dichiarazioni ufficiali messaggi fotografie video test con la macchina della verità ottengono addirittura alcune e-mail private da cui si evince che la casa di produzione era a conoscenza della sieropositività di Sheen già dal 2013 era uno scandalo senza precedenti a Hollywood le prove raccolte non solo confermano che Sheen è positivo al virus dell'HIV ma anche che l'attore sta spendendo milioni di dollari per nasconderlo alla stampa le mazzette oscillavano tra i 10 ai 20 milioni di dollari da un'altra fonte arrivano i documenti dettagliati di tutte le spese effettuate da Sheen nel 2013 Charlie Sheen in seguito alla diagnosi spese un milione e 600 mila dollari per i cosiddetti divertimenti di vario genere e nello specifico droga e prostitute e sono molti i pagamenti dalla dicitura ancora più ambigua c'era una voce che ammontava a 396 mila dollari a favore di una donna misteriosa conosciuta con il soprannome Miss B oltre ai vari pagamenti in cambio del silenzio le indagini dell'enquirer rivelano anche che l'attore pretende che tutte le sue fidanzate e le partner sessuali sottoscrivano un accordo di non divulgazione quindi qualsiasi cosa succedesse in quella casa qualsiasi cosa vedessero non potevano farne parola con nessuno senza rischiare di essere denunciate rivelare una di queste informazioni considerate confidenziali agli amici alla famiglia su qualunque piattaforma sociale o peggio alla stampa avrebbe come conseguenza una multa di 100 mila dollari in un attimo ne ottenemmo una copia per il radar online ed era un documento così dettagliato che nessun tipo di informazione sarebbe potuta trapelare chiunque avesse voluto dichiarare che Charlie Sheen potesse averlo esposto all'HIV o ancora peggio sicuramente infettato con il virus non aveva la benché minima possibilità di poter muovere un'azione legale ma se un semplice accordo non bastasse che cosa è pronto a fare Sheen per fermarli in certi casi alcune persone furono letteralmente minacciate di tacere intendo fisicamente quelli che una volta erano legati a Sheen dichiarano all'Enquirer che l'attore manda loro messaggi minatori altre fonti come l'ex spacciatore che per primo ha informato l'Enquirer sulla sieropositività di Sheen affermano di ricevere telefonate di minacce ci disse che quando iniziò a parlare con me ricevette numerose telefonate da alcuni componenti di gang che erano in prigione o appena rilasciati che gli dicevano di tenere la bocca chiusa e di non parlare di quello che sapeva l'informatore sembra certo che Sheen abbia anche i mezzi per mettere in pratica queste minacce la fonte mi disse che sapeva per certo che Charlie aveva ingaggiato dei sicari che l'affermazione sia vera o no molte persone che hanno avuto a che fare con Sheen non stentano a crederci minacce e intimidazioni erano parte del suo piano Charlie Sheen costringeva tutte queste persone al silenzio Sheen è solamente un bullo o come afferma un caro amico è anche una vittima ha molti soldi e la gente cerca continuamente un modo per guadagnarci e se non fosse un insabbiamento possibile che Sheen venga ricattato da qualcuno Sheen era terrorizzato che la notizia potesse trapelare talmente spaventato che per proteggere il suo segreto spendeva milioni e milioni di dollari convinto di assicurarsi che quelli che minacciavano di renderlo pubblico non lo facessero nonostante i milioni di dollari a disposizione quanto a lungo Sheen riuscirà a mantenere il segreto nel dicembre del 2014 succede proprio quello che Charlie Sheen sperava non accadesse mai il National Enquirer è pronto a pubblicare un articolo e a informare il mondo intero che l'attore è siero positivo avevamo una montagna di prove messaggi foto video documenti era tutto verificato contattato per controbattere per la prima volta lo sfrontato attore sembra sulla difensiva Charlie Sheen negava tutto infatti i suoi avvocati ci dissero che avevamo dei dati errati gli avvocati di Sheen dichiarano che un recente esame medico ha confermato la salute dell'attore ma si rifiutano di condividere questi risultati e non è ancora tutto giurarono che ci avrebbero impedito la pubblicazione dissero che se avessimo proceduto con lo scoop ci avrebbero fatto causa per 100 milioni di dollari per il momento sembra funzionare dovevamo agire con più cautela se Sheen pensa che la minaccia di una causa legale possa fermare le indagini si sbaglia di grosso chiesi a tutto il mio staff di tornare in buon ordine al proprio posto ma lo autorizzai a fare più telefonate possibili per riuscire a capire l'enormità e la portata di questo insabbiamento questo porta a 11 mesi di ulteriori indagini c'erano sempre più persone che venivano da noi con nuove prove con le foto dei farmaci o con addirittura le copie di esami medici nell'ottobre del 2015 non c'è più niente che Sheen possa fare per fermare l'Enquirer non aveva scampo come cita il famosissimo modo di dire lo avevamo colto con le mani nel sacco però invece di optare direttamente per la notizia che Sheen è siero positivo l'Enquirer pubblica come prima cosa quello che nel giornalismo è detto articolo cieco per dirla come si usa a Hollywood è una storia dove vengono descritti i dettagli senza rivelare chi sia il diretto interessato potete immaginare il successo è una notizia bomba ci contattarono altri informatori per fornirci nuovi dettagli ma è Charlie Sheen ad avere la reazione più clamorosa aveva preventivamente deciso di provare a ottenere il controllo della storia il team di Charlie Sheen aveva iniziato a negoziare con la NBC e con Matt Lauer promettendo loro che avrebbe fatto quello che definì un grande annuncio personale 16 novembre del 2015 Matt Lauer e il Today Show annunciarono che Charlie sarebbe stato loro ospite il giorno seguente riuscirà Charlie Sheen nel suo intento di controllare la notizia non appena il presentatore annuncia l'intervista di Charlie per il giorno seguente l'Enquirer reagisce di conseguenza pubblicammo sul nostro sito tutta la storia inedita ricordo che eravamo tutti sulle spine quando decidi di premere finalmente il grilletto è un salto nel buio pochi minuti dopo la pubblicazione online della storia il segreto che Charlie Sheen aveva cercato disperatamente di proteggere diventa di dominio pubblico è stato come un uragano il web è impazzito social network siti internet televisione la notizia bomba che il National Enquirer aveva pubblicato su Charlie Sheen e sulla sua condizione di salute colpì moltissimo i suoi fan e l'America intera disse solo adesso basta mettiamo fine ai pettegolezzi sistemiamo questo disastro e voltiamo pagina e è quello che ha fatto il nostro scoop costrinse Charlie a rispondere ad alcune domande scomode che forse non avrebbe mai voluto sentire ma non è solo ai media che deve delle spiegazioni tutte le ex amanti si erano messe in fila per cercare di capire se l'uomo con cui erano state a letto avesse o meno trasmesso loro il virus dell'HIV visto quanto dichiarato da Sheen a Matt Lauer la risposta è no durante la sua partecipazione allo show sostiene di non aver mai messo a rischio i suoi partner ma dopo l'intervista quando una delle ex amanti affronta Sheen si scopre che la star non è stata poi così onesta il video della discussione è stato ottenuto in esclusiva dal National Enquirer per quale motivo mi hai detto che non eri infetto perché non erano c***o tuoi chiaro a quel punto Charlie stava rischiando pesanti ripercussioni legali è illegale in diversi paesi degli Stati Uniti fare sesso con qualcuno quando si è a conoscenza della propria condizione di sieropositività se non si informa il partner del rischio che corre e molte ex amanti dell'attore si dichiarano pronte a denunciarlo tra queste c'è l'ex fidanzata Brett Rossi che ha non poche cose da dire a Charlie in un video ottenuto in esclusiva dal Radar Online mi hai esposto al virus dell'HIV per un anno e mezzo da strontano mi hai fatto abortire c***o mi hai picchiata e fatto credere che fosse colpa mia so per certo di almeno sette avvocati che esercitano Hollywood che al momento sono in causa per tentare di negoziare un accordo con Charlie Sheen nonostante i grandi tumulti degli ultimi anni secondo gli amici di Charlie l'attore sta cercando di mettere la testa a posto e andare avanti con la propria vita è una persona ottimista e sta cercando di ritornare in carreggiata e come ho detto di curarsi e condurre una vita sana e felice ma in realtà non ha più scelta perché ormai non importa più di come viva la sua malattia una sola cosa è certa non potrà più nasconderla la storia di Charlie Sheen è l'emblema del marcio dietro i riflettori di Hollywood parliamo di soldi spesi in alcuni casi di violenza minacce intimidazioni che assicurano a una grande celebrità di Hollywood soltanto perché ci fa ridere un posto al di sopra della legge di soldi spesi e